oggi siamo in un nuovissimo video e ragazzi siamo nel podere e oggi pianteremo pianteremo i cavolfiori ci abbiamo i cavolfiori gialli viola e quelli classici bianchi bianchi quelli bianchi e anche di me e anche quelli verdi allora noi usiamo sempre il nostro trapiantatore adesso aspettate che prendo i cavolfiori allora eccoli qua allora qua dicono di metterli distanza 50 per 50 e niente noi iniziamo abbiamo già stesi i tubi abbiamo già fresato abbiamo già concimato quindi niente ragazzi ci manca solo metterli giù allora ragazzi scusate il casino ma stiamo fresando il campo di sotto ora noi metteremo le nostre piantine di cavolfiori nella nostra cassetta ok mettiamo queste sennò poi ci iniziano a pesare ora prendiamo il trapiantatore e iniziamo allora facciamo un buco 50 centimetri quindi la distanza di questi dovrebbe essere mi sa tipo 30 centimetri guardate che lo chiedo no la distanza tra i buchi 30 centimetri no dove scende l'acqua i buchi eh i 30 centimetri sono i buchi ok e qui metti un buco e poi 45 quindi quindi metà ecco qua quindi sotto noi la mettiamo sotto perché abbiamo i campi in pendenza quindi l'acqua di sopra ce ne arriva di meno allora li schiacciamo possiamo anche non schiacciarli perché ragazzi guardate come sono belli grandi e belli robusti e le radici pure allora noi prima la piantina la mettiamo dentro schiacciamo e vanno fuori quindi ragazzi se volete avvistare il trapiantatore vi lascio il link in descrizione che fate niente fatica con la schiena e fate anche molto più veloce perché non dovete fare i solchi non dovete stare giù con la schiena secata quindi meno male fisico e poi mi torna anche molto meglio e poi con questi tubi vi lascio anche questi in descrizione che a me mi tornano veramente molto bene perché noi basta che l'acqua l'acqua la accendiamo la chiudiamo attraverso una valvola ok noi ora ragazzi continuiamo e vi faremo vedere quando abbiamo finito ragazzi abbiamo finito meno male ok allora mi impressioni mettere i tubi finire di pesare abbiamo già concimato niente abbiamo messo veramente poco con la farina il trapiantatore allora mi sembra che abbiamo messo allora abbiamo messo aspettate che ci leggo cavolfiore purple cavolfiore purple quindi poi questo mi sa che è il cavolfiore yellow no dorleac vabbè ragazzi quello giallo poi qua abbiamo il cavolfiore green lavander questo un rosino e quello verde e niente abbiamo messo questi e niente ora metteremo qua cavolfiore finocchi non lo so ancora ovviamente non lo so che non lo so Grazie a tutti. Grazie a tutti.